La cagnolina che vedete in questa foto, Clelia è la mascotta del rifugio comunale Ponte Marconi, adottata a giugno, si è smarrita il 20 agosto. Messaggi su strade su Facebook, la pagina SOS, Clelia Canesmarrito a Roma, raccoglie tutte le segnalazioni. Per aiutare nelle ricerche, l'indirizzo mail da contattare e info chiocciola iolibero.org.